Non vive chi non rischia, è quello che ho imparato E impari ad apprezzare solo chi se ne è già andato Io vivo nella mischia ma ci vivo da isolato E la gente ti critica e non sa cosa è passato E ho dei problemi tecnici che non sto spiegarvi Perché se no ci farei un video intero e quindi non c'ho voglia E oggi siamo in una challenge proprio registrata al volo Così che mo la devo iniziare e me la devo caricare Ed ovviamente farò una miniatura di merda Oggi siamo con Erditi Ciao Se in caso non l'avete visto però penso di sì A meno che non lo so Allora Allora La post-it challenge come funziona Praticamente ci manteniamo un coso sulla testa Con sto scritto un qualcosa E noi tramite degli indizi dobbiamo indovinare cos'è praticamente Tipo che ne so Lui c'ha qua una cosa in testa Tipo lui quello che c'ha in testa lo deve indovinare E io gli devo dare degli indizi Allora quindi regà E incominciamo a scrivere la merda A posto regà io ho finito Intanto aspettiamo Erditi finché finisce Comunque regà mi raccomando Se volete altri challenge in compagnia di Erditi Mi raccomando aggiungiamo almeno i 15 mi piace a questo video Io vedrò se altre volte Bene parterò Però non sarà una cosa che vi porterò sempre Perché appunto il canale è basato sui gameplay E non sui challenge Allora Ok qua è un momento da scelta Assai misterioso Questa Ok fallo Fallo vedere Vabbè quasi vede tutto al contrario Perché Ok E io invece Aspetta Da quelli che ho fatto No Prendo prima una cosa semplice Perché Sennò è brutto Ok scelgo questo Non guardare Tranquillo Ah vabbè si vede al contrario Perché tutto Però vabbè Insomma si capisce Poi magari vi metto Dei sottodito Sì questo Mettito in testa Ok E tu dammi il tuo Senza che lo guardo Dai Secondo me è una cosa bella Tenghi Allora Incomincio io Non guardiamo la videocamera Perché sono il giusto Incomincio io Cosa lo stavo male Che cazzo Allora incomincio io Vada Eeeh Diciamo che è una cosa che si sa da sempre Si sa da sempre Esatto Ok Vai vai La tua è un passatempo Un passatempo Youtube No Allora Eeeh E' una cosa che hai detto in passato Ma è facile Che sono un hub No E' una cosa Lo devi dire Cioè Ci sei vicino Però lo devi dire bene Lo devi dire Eeeh Ma ti ho diti Un hub Bravo Eeeh Grazie Grazie Io l'ho fatto Molto semplice Regà Io che cos'era PS1 E' un passatempo Vabbè ma la volta Era un passatempo Allora che fai vedere Il tuo adesso Il mio Il mio Vai vai Non guardi Questo Questo Look Look the face Eccolo qua Fatto Aspetta Vediamo Prendo Prendo questo Prendo questo Perché l'altro Deve essere una cosa Ovviamente Venterò sempre I sottodiditi Perché non si capisce Un cazzo Intanto DT Spera Poi il muro Ok Tenghi Vada Ok Tenghi Vai Stovo giro Incomincio tu Vai Vado Allora Cazzo è mio Ok Fa parte della televisione Che so E' una show No E' una parte della televisione Una parte della televisione Ok E' una cosa che ho usato spesso E' il pc No Ok Vai E' una cosa che ha condotto vari 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 programmi domani vari 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 cose Popolari popolari Maurizio Costanzo Nooo Bolevi Eh Già 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 Era scontato Allora Non guardare la messa E poi comunque deve raccontare Poi siamo pronti Eeeh Diciamo che L'hai usata L'hai usata da sempre Una cosa che non è mai mancata nella tua vita No della figa Non ti preoccupare Tenevolo No Che cazzo è Eeeh Allora Ma se ti doni di E' bionda E' bionda Si Michel Unziger Nooo Che cazzo Vada Difficile Eeeh Aspetta Diciamo che La usi insieme alla gente E' un qualcosa Trito E' un qualcosa che può essere usato insieme agli amici Pallone No No Non è Allora E' bionda E' abbastanza anziana Abbastanza anziana Simone Aventura No Eeeh Difficile Sai Che cazzo è Allora Vai C'hai fatto Potresti aver fatto dei tornei Con gli amici PS4 Si 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 Oh La setta Non Cerca Cerca di Allora 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 Sta il grande fratello No Poi Eeeh E' la moglie di un qualcuno Ilari Blasi Nooo E' una moglie Di uno senza collo Di uno senza collo E' Maria De Filippi Nooo Ovviamente Mica Li metto Maurizio Costanza Li metto la moglie Giustamente Mi hai pregato a sto giro Apposta Questa qua Ecco Ah se la faccio vedere prima io Tu non guarda Questo qua Voglio proprio vedere se ne indovina Si capirà un cazzo Ovviamente ho detto I metto sotto di Italy Ok Vabbè si vede tutta la racconta Vai così Ok Allora E' un intrattenitore Un intrattenitore Yes Salto Non lo so Vada Eeeh E' una cosa che non hai mai fatto nella vita Scopata Oh per ora non l'ho fatto Eh è giusto È giusto Grazie Guarda No Non lo so Passo No Veramente Che cazzo è Ti giuro Non l'hai mai fatto nella vita Non l'hai detto giusto Hai detto scopare Quello Ti giuro Guarda Beh Però si è andato a culo La prima volta Eh vabbè Te l'ho fatto troppo male Vabbè Vabbè fammi indovina a me Allora Un intrattenitore Eeeh Un fidanzato con una Che ha i capelli rossi Capelli rossi E' di Roma E' di Roma Ma è intrattenitore nel senso Trattenitore in generale Anche su Youtube Anche su Youtube E' preso di mira E' preso di mira Cicciogamer E' la parola Vabbè ma io mi ricordavo Che ce ne avessero verdi Patrizia I capelli Rossi Verdi Tutti i colori C'ho quelli Comunque ragazzi Il video finisce qui Spero che questa challenge Vi sia piaciuta Sarà una delle poche Che vedrete sul canale Perché ovviamente Oggi ero rimasto Senso il video Per colpa dello share Della PS4 Che si bagga sempre E lasciate tantissimi like Iscrivetevi al canale Se ancora non avete patto In descrizione Trovate il canale E lasciate tantissimi like